Bentornati in questa nuovissima puntata di Radio Design Storie Digitali, sempre qui Nicola Palumbo, Istituto Nero Design e Paolo Bardelli. Finalmente siamo tornati, vi siamo mancati. È vero, grido come i vecchi rincoglioniti, ma abbiamo sistemato il volume? Sì, oggi di cosa parliamo? Parliamo di un film, ma non un film, qualsiasi, ma The Avengers Endgame. Un affare miliardario, noi ne parliamo per questo. Siamo sempre appresso ai soldi, sempre soldi. Io no. Sì, il nuovo Mahmood, Palumbo. Un sacco di scelte sbagliate nella vita. Speriamo di correggere il tiro più avanti. Allora, oggi sono vestito per l'occasione come gli autisti degli autobus, perché sono tutto blu e con la camicia, la cosa che odio di più in assoluto, però questo non vi riguarda. Oggi parliamo, come sempre, di marketing e parliamo di campagne crossmediali, multicanale. Era molto figo metterci anche la parola multicanale perché attira l'attenzione, è molto catchy come titolo. Una parola da grandi marketer e noi ce le giochiamo sempre tutti, tutte queste parole. Chi è il marketer? Basta dire facciamo un verticale su un contenuto, che le persone normali direbbero parliamo solo di quella roba, noi diciamo parliamo verticale e poi per farsi fighi si può dire anche multicanale, ma anche crossmediale. Oggi parliamo di una campagna crossmediale e multicanale. E per completare il quadretto io direi anche gamification, perché ce l'abbiamo e qui abbiamo una narrazione estesa, che è quella dell'universo Marvel. Quindi abbiamo tutto un pacchetto da fetici per i marketer. Ed è molto molto divertente. Ai cinesi piacciono i piedi, a noi piacciono queste cose, giusto per chiudere. A noi piace il funnel. Questa era una chiosa finale, perché siamo anche giornalisti, quindi devo dire anche chiosa, che è una cosa tipica del giornalista. Sì, guarda, tutte le alternative a lavorare noi le abbiamo percorse, siamo ridotti così. È passata anche una tipa con i capelli verdi, noi non ci facciamo mancare niente. Assolutamente niente. Siamo sempre in vetrina. Disciplina, disciplina. Potete venirci a trovare qui in Via Lessi 3 in vetrina, potete fare un programma con noi se avete un minimo di cultura. E non avete amor proprio. Perché qui regna solo l'elitismo. Assolutamente. Solo gente di un certo livello. Dopo aver identificato il target, cioè gente orribile come noi, possiamo andare avanti. Parliamo di questo punto. Parliamo di film, sai quei film che poi tutti vogliono vedere, anche se alla fine esci e dici, vabbè, era una cosa un pochino torta. Sì, era così. Però molto bella, perché esplosioni, gente che esplota. Dopo l'hamburger o la pizzaccia con amici, ci sta benissimo il film degli Avengers. Quindi da questo punto di vista non facciamo gli snob. E poi c'è sempre tanta figa in questi film. Sì, c'è la cara Scarlett. C'è Scarlett, che non è la nostra scheda audio, perché la nostra scheda audio si chiama Scarlett. Non è incredibile questa coincidenza. La baceremo. Sì, ha due ingressi e due uscite. Non so se poi i conti tornano. Vabbè, abbiamo detto un sacco di cazzate. Volgarità, go, go. Possiamo andare avanti. Parliamo di questa campagna. Allora, ricordiamo, l'Avengers Endgame, prodotto dalla Marvel. Voi tutti conoscete la Marvel. La Marvel è della Disney, quindi non è il primo stronzo qualsiasi. Disney, quindi la Marvel, ha un sacco di soldi e ne spende un pacco ogni volta che esce la nuova edizione di Avengers. Mi ricordavi tu quante puntate? Allora, abbiamo visto prima che nell'universo espanso cinematografico di Marvel sono stati realizzati 22 film già. Questo dovrebbe essere il ventitresimo. Quindi questo vi fa capire quanti soldi girano. Ma per farvi capire ancora più chiaramente quanti ne stanno girando, vi facciamo presente che le campagne marketing legate al marchio Avengers Endgame arrivano a 200 milioni di dollari. Esatto, 200 milioni di dollari che, convertiti velocemente in euro, sono un pacco di soldi. Sono 190 milioni. Un'esagerazione. Allora, lo ricordiamo, possiamo fare dei confronti con le spese mantenute nelle edizioni precedenti, dei film precedenti. 150 milioni per pubblicizzare Infinity War, che non so se l'ho visto. Io me lo sono perso, pensa a te. E poi 140, Spider-Man. Spider-Man. Vergogna, Spider-Man meritava molto di più. E comunque, cosa possiamo dire? Poi altre campagne che sono costate ancora un pochino meno, tipo Homecoming. E per non parlare degli 80 milioni. Per i guardiani. Per i guardiani della galassia, che è appunto briciole, come viene definito anche in questo articolo. Sì. Che vi segnaleremo poi di Movie Player. Ma... E quindi questo. Allora, intanto cominciamo a fare un discorso organico su cos'è una campagna cross-mediale. Spieghiamolo ai profani, o noi che siamo elitisti. Allora, in breve... Però noi divulghiamo questo grande sapere che abbiamo, e quindi dovete essere anche gratis. Allora, una campagna cross-mediale si serve di vari strumenti, di vari piattaforme, legate a vari media, a vari canali, e riesce a articolare una comunicazione integrata, che si sposta da un canale all'altro. Prendiamo l'esempio concreto di questa campagna portata avanti da Marvel per Endgame. Sono coinvolti beni di consumo. Pensiamo a McDonald, che commercializza i propri Happy Meal con i giocattoli dei personaggi. Abbiamo Audi, che promuove una tecnologia VR legata al film. Quindi passiamo a uno strumento multimediale. Ovviamente c'è il film, tra i media coinvolti. Abbiamo la musica, abbiamo spot tradizionale, abbiamo stampa tradizionale. Quindi è una comunicazione che si sposta tra vari segmenti, senza dimenticare quello videoludico del quale abbiamo parlato ultimamente. Esatto, sono campagne appunto multicanale, cioè che si muovono su più canali. Quindi sia l'online, come citavi anche tu, campagne ovviamente che riguardano il televisivo, che riguardano l'influencer market. È vero, senz'altro. Product placement a go-go, tu hai citato già Audi, se non sbaglio, su VR. C'è una realtà virtuale, voi siete, sono ignorati, vi spieghiamo. In realtà virtuale. Come umano lei. Tra l'altro c'è un video fighissimo che vi segnaliamo, che potete andare a vedere, dove viene spiegato appunto come avviene questa campagna immersiva, questa esperienza immersiva. Cioè ti infilano all'interno di una macchina, ti mettono questi occhialoni che ti permettono di andare in realtà virtuale. Credo Oculus Rift, non ho idea di quale strumento si è utilizzato. Ho letto Oculus. Ah, Oculus, ok. In combutta. In partnership con Hulu, che sarebbe una piattaforma americana simile a Netflix, che nacque prima di Netflix e poi si è fatta fregare da Netflix. Potremmo fare anche un racconto. È vero, Netflix e i suoi fratelli. Esatto, per rimanere sempre, no? Sui temi a noi cari. E appunto queste campagne immersive, fighissime, che hanno presentato al CES, che non è una parolaccia, ma praticamente ogni anno a Las Vegas si ritrovano tutti i grandi player del digitale, non, presentano tutte queste cose fighissime e innovative. Appunto l'influencer marketing, quindi con il coinvolgimento di diversi prodotti. Uno che non hai citato, se non sbaglio, è Ultra Beauty, che è un'azienda di cosmetici. Ci ha fatto ridere tantissimo. E questa cosa mi sconvolge perché hanno creato una collezione di cosmetici a tema Avengers, che è accaduto per la prima volta. È dato subito sold out nei negozi. Quindi è incredibile come cosa. Questo ti fa capire comunque come questa campagna sia cross-mediale, ma è proprio una campagna piglia tutto. Perché il cinecomic, per definizione, non doveva essere rivolto al pubblico femminile. Non pensavamo che arrivasse a un pubblico attento alla moda, al beauty. Invece sì, perché comunque i cluster che sono andati a occupare non gli bastano più. Ne vogliono mangiare altri. Quindi sono scatenati. Addirittura anche la Coca-Cola farà una linea di lattine incentrate sui protagonisti del film. Quindi grazie all'artista Tom Whalen, lo citerei. Che salutiamo. Che salutiamo. E poi ci saranno anche, come è accaduto spesso, e qui possiamo citare sempre il famoso Snapchat, che è stato il primo player a introdurre l'idea di face filters, quindi i filtri per le faccine stupide che usano i bimbi minchia. Qualcuno sarà anche l'ascolto. Che salutiamo. Che salutiamo. E ci saranno anche degli sticker AR, cioè per la realtà aumentata. Non so se ci avete mai giocato. Ma sì, ci hanno giocato tutti. Orecchie da coniglio, orecchie da cane. Vita da cani. Vita da cani, noi soprattutto. Per gli utenti Pixel, sapete tutti che Google ha una linea di telefonini, si chiama Pixel. Ti fa salta, sì. Esatto, hanno realizzato degli sticker di realtà aumentata, molto fighi. La realtà aumentata funziona sempre, è stata utilizzata anche per Got, G.O.T. che tu ho, di Game of Thrones, come anche, mi sa, l'ultimo super puntatone dedicato a Batman. Ci fu una campagna di realtà aumentata molto figa. E poi, cos'altro possiamo dire? C'è un bellissimo virgolettato, che non so se vuoi citarlo, che spiega molto bene come il coinvolgimento di un film del genere, il coinvolgimento di brand esterni con la Marvel, che cosa comportano poi a livello di vendite. Sì, perché sono parole indicative di Mindy Hamilton, SVP of Partnership Marketing per il gruppo Walt Disney. Siamo cresciuti ben oltre il nostro tradizionale pubblico di appassionati, che era quello che dicevamo prima. Ora abbiamo coinvolto millennial, adolescenti, in un pubblico multiculturale di famiglie. Cerchiamo partnership che onorino e celebrino ognuno di questi segmenti. Per qualsiasi brand che desideri rafforzare la propria presenza sui scaffali o raggiungere un nuovo pubblico, collaborare con Marvel è un sogno. Si stima che i brand che si associano all'MCU non dire niente. Quando si parla di sogno, palumbo salta sempre in sella. Quando hai un primo contatto con i fan Marvel, non vedono l'ora di condividere la propria esperienza e passione per i nostri film e personaggi. Quella passione li fa diventare brand ambassador, il che si traduce in nuove vendite e vicinanze ai nostri partner. Sembra un paragrafo di un capitolo di marketing, di un libro di marketing. È compendiato tutto alla perfezione, perché abbiamo l'influencer marketing, però di micro-influencer, che viene dal basso. Ognuno contribuisce alla notorietà del brand con i propri feedback sui social. Sembra banale, ma vederlo spiegato così da addetti ai lavori rende bene l'idea. Inoltre, abbiamo il concetto che avevamo accennato prima, i cluster occupati, e via via questo brand piglia tutto, continua a muoversi in maniera strategica, allargando il proprio raggio d'azione. Quindi è una strategia di lunghissimo periodo, come ci dimostra il fatto che questo film arrivi dopo 22 altri capitoli. Quindi non arriva dal nulla questo successo, ma ovviamente è costruito pezzo a pezzo. Esatto. Tutto quello che dici è verissimo e spesso ci sono diverse critiche sull'efficacia del coinvolgimento. Qui ci sono i numeri alla mano che dimostrano invece come un brand, legandosi a un altro brand, può effettivamente aumentare le vendite. Il 50% non è poco, è una marea di soldi e effettivamente funziona. Funziona perché soprattutto un pubblico come quello dei millennial, ma anche soprattutto i ragazzi veramente giovani, sono estremamente legati e suscettibili rispetto a questi tipi di contenuti e prodotti. E effettivamente vedremo come poi il film esce il 24 nelle sale. Vedremo poi, potrebbe essere figo anche fare un recap e vedere come sono andate queste campagne. Ma è un successo annunciato comunque, non dovrebbero esserci enormi problemi per Marvel. Bisogna vedere se riusciranno a continuare a crescere perché il loro progetto prevede di continuare a sbigliettare moltissimo. Infatti, tra l'altro abbiamo fatto una puntata qualche anno, qualche mese fa, forse l'anno scorso ormai, perché questo è un quadro, sono ormai mesi che lo facciamo, una puntata fighissima dove, forse ero con Elisabetta, non con te, perché la Disney, leggevo, aveva investito l'anno scorso un miliardo di dollari in campagne digitali, è stato il record. Disney, un miliardo, Netflix, 800 milioni. Questi sono i due più grandi player, diciamo, con liquidità per quanto riguarda... Ora è un corpo a corpo, si affrontano... E adesso vi viene da pensare che se Disney spende un miliardo e poi ne spende ora di questi 200 milioni, probabilmente un centinaio di milioni saranno campagne online, forse sto esagerando, forse sarà un terzo. Sì, meno. Sarebbe interessante andare a vedere queste date, ma ce li ridaranno dopo, probabilmente. A cose fatte. Questo vuol dire che comunque questo prodotto qua rappresenta una bella fetta di tutti gli investimenti digitali della Disney. Ma i due marchi acquistati, quelli legati al mondo Marvel e il mondo Star Wars, sono marchi strategici che Disney ha preso per rinfrescare il proprio brand che comunque era legato a un'identità culturale che iniziava a essere un po' impolverata. Ha preso i due franchise di maggior successo, quelli garantiti, garantiti al limone. Con quelli, non sbagli, la gente andrà sempre a vedere quei film. Opla. Ecco qua, commentare un successo. Mi sei piaciuto, questo è un grande finale per questa puntata. Direi che vediamo un pochino come andrà, lo scopriremo solo vivendo. Il 24, tutti al cinema, sembra che ci hanno pagato. Davvero? Ma pagateci, pagateci, pagateci. Io aspetterò invece che esca su Netflix, perché ovviamente ci sono sempre degli accordi, vanno a fare sei mesi probabilmente. O streaming, orribili streaming pirati ciecoslovacchi. Noi non siamo. No, noi l'illegalità non la conosciamo. Ma anche io perché non c'ho tempo, sono anni che ormai non vedo un film. L'ultimo film l'ho visto a novembre. Vai, cronache di vita vissuta, una roba. Cronache di vita triste, vissuta. Ma perché lo faccio? Perché io vi do questo, vi do cultura. Dai tutto, dai tutto. Sono qui per voi, vestito come l'autista dell'Atac. Non parlate al conducente. Attenzione, è partito lo spot all'improvviso. È partito lo spot. Un ringo team, incredibile, bellissimo. Ok, è stato super. È un segnale. Di cosa parleremo la prossima volta? Non lo sapremo mai. Non ne abbiamo la più palida idea, ma troveremo qualche idea, la troviamo sempre. Potrebbe essere figo le migliori campagne di Pasqua. Le migliori uova. Le migliori pasquate delle aziende. O le migliori pasquette. Ok, abbiamo anche addirittura due persone che continuano a seguirci, nonostante il contenuto sia vacuo in questo momento. La depravazione non conosce i confini. Questo si chiama feticismo. Vi amiamo, eh. Vergognatemi, è feticismo puro. Ciao. Lo dico io? È stato un sogno. È stato un sogno. Questo è il nuovo payoff del programma. Abbonatevi, eh. Spiricare, podcast, iTunes. Donazioni. Spotify. Siamo poveri, abbiamo veramente bisogno. Donazioni, ma non opere di bene. Esatto, non ce ne frega niente. Faccio il contrario. 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 Grazie a tutti.